ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di naruto revolution ecco che eravamo rimasti ad affrontare mech naruto nella modalità kyube quindi adesso dobbiamo andare a recati presso il vlaggio della foglia area centrale e andremo subito lì ecco qua ma sentite naruto non vuole mech naruto venga distrutto un dratto a cercare da solo ma è la lorenzo la vuole trovarlo e catturarlo vero si l'ho sentito credo che ormai l'abbiano saputo tutti gli altri ninja ormai sciuni della foglia accidente sta diventando un bel problema insomma non esiste alcuna speranza di catturarlo si però non possiamo ignorare gli ordini che abbiamo ricevuto andiamo avanti quindi tutti sono i miei nemici a quanto pare prima cosa devo lasciare la foglia maruto hanno trovato mech naruto davvero dopo aver girato per tutto il mondo si sta dirigendo verso l'isola festival ancora quell'isola ok aspetta però anch'io ne sei sicura? si lo la penso esattamente come te naruto ok e come vanno a salvare? in un modo o nell'altro siamo riusciti ad arrivare qui adesso dobbiamo soltanto trovarlo però facciamo attenzione ci sono altri ninja in giro se ci trovano lo so in quel caso ce ne liberiamo con la forza se necessario c'è del fumo laggiù che lo devi andare a vedere no no ok andiamo subito su facciamo un ferito aspetta chi sono? ah mi ha detto insomma consento di parlare molto di te non possiamo lasciarti passare dobbiamo aspettare che la situazione si calmi assolutamente no vorrà dire che passare usando la forza va bene adesso dobbiamo affrontarli tutti quanti vengare prima di vengare si in 2 7 2 e e e Menta di energia era tolta, mente male. Ah, piccata, non ho preso. 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 Eh, Lorenzo, stasera andiamo a Paraparapà, allora? Paraparapà? Sì. Abbiamo vinto, amore. Eh, vai. Ok, Lorenzo ti fa prena l'ulto, bene. Eh, andiamo avanti, eh? Andiamo ad affrontare altri avversari. Allora, ecco qua. Opa là. Eh, parla. Ok, adesso andremo avanti. Che forza. Mi spiace, ma devo proseguire. Bene ragazzi, qui con me c'è Lorenzo che faremo insieme i gameplay. Come vedi ci sono dei personaggi già per terra. Allora, praticamente mi devo riccare al punto in cui ho iniziato. Cosa è quella? Ah. Devo affrontare anche quest'altro. Ok. Ma attacca. Spero che stessi venuto. Nono Tsukai, se vuoi fermarti, Armi anche tu? Devo farlo, siamo in cake. Dobbiamo agire per proteggere la nostra gente. Se per questo dobbiamo combattere anche quest'altro avversario, è tutto Naruto. Non è che è cattivo Naruto, devo solo proteggere. Quindi, sai, quando si mette una cosa in destra Naruto, non parla del rumore. Eh, parla qua, amore. Siamo? Dici, forza Naruto. Forza Naruto. Ce la possiamo fare? Fare. Siamo fare. Siamo più forti. Siamo forti, forti. Bravo. Adesso combattiamo, eh. Ecco qua. Guarda cos'è. È il nonno quello. È il nonno quello. È il nonno. È il nonno quello. E il nonno se lo vuole. Ok. L'abbiamo a steso un po'. È il nonno quello. È il nonno questo. È il nonno quello. un papà vero. Ah, è peccato, non è peccato Peccato Peccato, papa Peccato Opa Opa PYeah Peccato Ah, è peccato 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 beccato in pieno questa ma l'abbiamo vinto no parla e abbiamo vinto anche contro questi qua e fa questo papà così mia coccola oh la mia schiena quindi questa è la tua forza bene adesso devo andare ma basta andiamo avanti ok altri sono per terra ci stiamo quasi avvicinando il fuono si alzava da qui devo raggiungere subito e dove cavolo si alzava quindi qui so ma qua non so salire non 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 si vai verso il luogo così alzava e dove si alzava allora vediamo qua no qua andiamo quindi dovremmo andare qua sopra ok ok neanche qui neppure qui ecco ecco finalmente c'è non 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 ma scusa fermo ah anche loro perché c'è stato qui è in perico destino del mondo intero quello non è il vero mechina rude devo salvarlo e anche loro dovremmo affrontarlo ma è morto forte ahi siamo vinta siamo vinta siamo vinta eh adesso vinciamo ecco qua ora sei in canta italico di questo oh 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 Ah, ma beccato l'ho Ah, ma beccato l'ho scaraventato pure anche Ok, abbiamo vinto, abbiamo vinto C'è morire? Si Paglia 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 Paglia